Allora, ancora grazie infinite per questa opportunità. Signora Scavo, credo abbia dimenticato qualcosa. Può restare un attimo in linea? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh, ero, ero al telefono e io stavo parlando con il mio nuovo capo e ho... E' rimasta in auto solo un minuto. Ma ci saranno 40 gradi fuori e non avevo mai, mai fatto una cosa simile. Ha molte cose a cui pensare. Tre bambini, una neonata e anche un nuovo lavoro. Sì, è vero. Già, è un gran bel da fare. Ecco, tenga. Grazie. Adesso dovrei tornare alle finestre di Susan. Abbia cura di sé. Linel, sei ancora lì? Linel, pronto? Sì, è ancora in linea. Linette, non vieni. No. Devo aiutare mia figlia a fare i compiti. Bambini, tesoro, sto arrivando! Eccomi. Adesso andiamo a fare le mani. Ancina. Bambini, te'nòmi. E' ancora in linea. Ancina.